Diana and Roma! La nostra vista deve essere protetta! Roma! Che c'è? Non puoi guardare la tv da così vicino! So cosa fare! Tres metri! Top carne! Top carne! No, 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 no! I frutti di bosco sono molto meglio! No, 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 no! I frutti di bosco sono molto buoni per la vista! Ok! No, 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 no! Roma! Che c'è? Devi indossare gli occhiali da sole! No, 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 no! No, 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 no! Fermo, 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 fermo! Dio, no! Questo fa male ai tuoi occhi! Io so cosa fare! L'iPhone! No, no, no! Cool! Yeah! Wow! Cosa succede? Roma! Questo non fa bene! Non si legge di notte con la luce del flesso! Dai, te lo mostro! Guarda, questo è un occhio! E anche questo! Dovremmo preoccuparci per i nostri occhi! Ciao, sto andando a controllare la via vista! Grazie, Diana! Prego! Ragazzi, vi importa dei vostri occhi?